Non c'è ancora la data, però è frutto di una telefonata avuta tra me e il Ministro dove abbiamo fatto il punto telefonico per il patto per Napoli, ho inviato al Ministro una mail facendo un po' il resoconto di quello che sta facendo il Comune e che stiamo rispettando bene il cronoprogramma che ci siamo dati e il Ministro ha detto che voleva venire a Napoli per fare insieme il punto sulla situazione, quindi in quello spirito di cooperazione istituzionale e di efficacia che ha caratterizzato sicuramente in questa vicenda i rapporti tra il Governo nazionale e la cittadinanza.